Buongiorno, buonasera, Marco Pt, 5x5. Faccio questo video per la seconda volta. Il primo video lo avevo girato in auto, così al volo, per rispondere alle richieste. Poi però, viste le recenti evoluzioni che ha preso la politica italiana, il clima è abbastanza nervoso e quindi, riguardando il video che ho fatto, forse era il caso di usare toni un po' meno accesi. Il primo video che ho girato sul 5x5, quello di ieri, non me la sento di mandarlo su YouTube. Non in questo frangente temporale, ecco. Quindi preferisco usare toni più pacati e cercare di non fomentare un'altra ondata di hating. Basta, spero che vi piaccia. Comunque, io non sono uno YouTuber da intrattenimento. A un certo punto devo anche dire quello che penso di un programma, quindi cercherò di farlo comunque con toni dimessi e senza suscitare dissing o clash tra scuole di pensiero. Allora, il 5x5 è un programma ideato da Bill Star. Mi sono poi documentato anche su internet in merito alle varie presunte paternità, ai cambi di passaggio, di testimone. Ci fu poi anche la scuola texana, ci fu anche il rag park. Non mi interessano questi lineage. Già è complicato considerarli quando si parla di arti marziali. Se si deve fare anche questo percorso con i pesi, io taglio corto, vado subito al tecnico. Allora, il protocollo 5x5. Tralasciando tutta la roba inerente alla paternità vera o presunta di questo sistema. Cosa ne penso del 5x5? È un buon protocollo. È un buon protocollo. Secondo me è destinato principalmente ai principianti e in alcuni casi agli atleti intermedi. Il motivo per cui ha avuto il successo che pare abbia avuto è che può abbracciare una larga fetta di pubblico, quindi essere fruibile ai più. I segreti del suo successo non sono segreti. È semplicemente un protocollo che ha un buon volume, ha un buon range specifico, quindi 5 ripetizioni, abbastanza attenente alla forza muscolare. E soprattutto è gestito con diversi tipi di bufferizzazione, cioè di margine, ok? Quindi è un po' una specie di jolly. Lo si butta sul tavolo e va sempre bene. Il 5x5 è il classico programma che mette d'accordo un po' tutti. Ripeto, un po' tutti. Si rivolge principalmente a principianti e intermedi. Io non l'ho mai utilizzato in vita mia, se non per brevi periodi, per constatare che era uno dei tanti protocolli volumetrici, ma non l'ho mai proseguito per lunghi periodi. Che sia 5x5 o 4x4 o 6x4 cambia poco sostanzialmente. Il 5x5 è un programma cattivante perché ha due numeri combacianti, quindi sets e reps sono uguali. È molto più facile quindi da ricordare. E non si genera quella confusione se mettere prima le ripetizioni o le serie. Funziona tanto quanto un 4x4 su per giù. Non c'è niente di magico nel numero 5. Non siamo cabalisti. Non è una questione di simbologia, di numerologia. Non si parla di numeri in sezione aurea o di stringa di Fibonacci. Questo tipo di programma è destinato soprattutto ai multiarticolari. quindi esercizi a elevato coinvolgimento sinergico. Spinte, trazioni e accosciate. Che sono i tre spicchi del bodybuilding, dello strength training, eccetera. Secondo me si può anche utilizzare per alcuni monoarticolari. Per esempio il curling. Se si va poi magari a lavorare sulle aperture con i manubri, sulle croci con i manubri, forse è un po' pericoloso. Ma anche in questo caso, con delle secchiate di buffer, tutto è sostenibile. Potete fare il 5x5 anche con le estensioni a un braccio dietro la testa, che sono notoriamente pericolose per i gomiti. Tanto, con la tecnologia buffer, qualunque programma diventa sostenibile. Anche se vi allenate nella tana delle tigri, utilizzate le giuste dosi massicce di buffer e tutto è sostenibile. Quindi, sì, funziona, è un buon programma. Dopo un po' il corpo va in homeostasi e si adatta. Quindi serve qualcosa di più. Se poi si va a preparare un atleta per una gara di pesistica o di powerlifting, in cui deve esprimere la massima forza o potenza in un massimale, quindi in una singola alzata, il 5x5 comincia un po' a mostrare i suoi limiti. Sicuramente ci sono delle interpretazioni. Però, anche in questo caso, non è mia intenzione trattare tutte le sfumature. Come applicare il 5x5? Come inserirlo nella vostra programmazione? Qua dipende da quanti giorni andate in palestra, quali esercizi vi interessano, come strutturate la vostra scheda, che frequenza intendete usare, su che intensità volete regolarvi. Qua ci vuole un lavoro da professionista. Ci vuole qualcuno che vi metta una programmazione in funzione e che possa collocare il protocollo nella giusta nicchia. Si può praticare il 5x5 anche ad altissima frequenza. Io ho un amico che a Manchester ha fatto il suo record storico di Militer Press facendo un 5x5 quotidiano, cioè 7x7 lento avanti. Costui era un po' fissato sul fatto di avere le spalle strette, il petto grosso, ha voluto dare enfasi alle spalle, ci ha lavorato come un matto 5x5 tutti i giorni. Chiaro che si è reso conto col tempo che doveva alzare parecchio il buffer, praticamente la serie veramente intensa era l'ultima. Vi capovolgo un po' la situazione. Supponiamo che voi facciate un 5x5 in cui la prima serie è un all-out, cioè caricate il massimo peso possibile per spremere 5 ripetizioni, l'ultima delle quali è proprio quasi quasi impossibile. Dopo questa serie completata richiederà parecchio tempo poterne eseguire un'altra sempre da 5 ripetizioni. Quindi il 5x5 diventa un 5, 5, 4, 3, 2 magari. Non lo so, dipende poi dai livelli di condizionamento. Comunque il buffer consente di completare tutto lo schema di questo protocollo. Io personalmente non uso in generale i protocolli volumetrici, quindi diciamo tabelline, non voglio mancare di rispetto a nessuno, sono tutti schemi a incastro che hanno un appeal commerciale più o meno importante. C'è anche un altro schema, il 5, 3, 1 di Wendler, che ha un principio commerciale simile, cioè creare qualcosa che si ricordi e che possa dare un gancio anche concettuale per poi effettuare la pratica sul campo. Ad ogni buon conto, come programma di base, non è male. Chiaro che se poi un atleta vuole dedicarsi in modo specifico alla programmazione pre-gara, al condizionamento pre-gara, al lavoro sulle singe, il famoso mesociclo di intensificazione, come si dice in alcuni contesti in scuola russa, o comunque di programmazione generale, allora bisogna manipolare questo schema. Cioè si abbandona il 5x5 e ci si dedica ad altro. Allora, l'usura articolare di questo protocollo può essere tranquillamente contenuta, ancora una volta, come ripeto, bufferizzando, cioè tenendo un margine. Attenzione che un atleta avanzato, un atleta molto forte, quando utilizza protocolli del genere, anche se bufferizza, genera comunque un grosso stress articolare. Una persona molto forte, che alza comunque grossi carichi, anche bufferizzando, con un lavoro del genere, rischia di subire infortuni, magari non gravi, ma comunque di usurarsi, anche se effettua gli esercizi in tecnica perfettamente corretta. Questa purtroppo è una grande verità. Il sovrallenamento esiste, non come ce lo fanno credere, ma esiste, ha diverse sfaccettature, può attaccare diversi settori, uno dei quali è appunto il tessuto connettivo, è il discorso inerente, un settore dei quali è la salute del connettivo, salute connettivale. Ci sono tanti tipi di sovrallenamento, ci può essere un affaticamento del sistema nervoso centrale, ci può essere appunto un'usura articolare, ci può essere un burnout psicologico. Addirittura in alcuni sport aerobici si può arrivare alla rabdomiolisi. Però non è questo l'argomento del video. Allora, per quanto riguarda l'apprendimento tecnico, il 5x5 può funzionare, ma quando si ha a che fare con un principiante, qualunque protocollo che abbia abbastanza volume e abbastanza margine di sicurezza può funzionare. Io ho letto un sacco di articoli sul super slow, sul long range, sulle altissime ripetizioni, poi sulle ripetizioni molto lente, poi sul discorso degli elastici, delle catene, delle bande elastiche tra le ginocchia, tutte cose bellissime, utilissime, bellissimo. Ma su un principiante tutto fa brodo. Un avanzato, dopo un po' deve abbandonare, deve potare i rami secchi. E' come il discorso che faceva uno youtuber che seguo, Greg Garage, parlava di pacchetto dinamico e pacchetto motoristico. Arrivati a un certo punto, se si vogliono massimizzare le prestazioni di velocità di una vettura, non si può insistere sempre sulla cilindrata, su più cavalli, più kilowatt, più motore. Bisogna considerare anche il pacchetto dinamico, quindi il coefficiente di penetrazione, l'aerodinamica, la scocca, il telaio, la mescola delle gomme. Quindi cercare di viaggiare leggeri, viaggiare leggeri. Massimizzare le prestazioni, ottimizzando pacchetto dinamico e pacchetto motoristico. La metafora è un po' ardita, ne rendo conto, però ne pesi le cose. Per quella che la mia esperienza stanno esattamente così. Pensare di cavarcela sempre aggiungendo volume, è come cercare di far vincere una gara di Formula 1 a un camion Scania semplicemente potenziando il motore. Non funziona così. Bisogna intervenire sulla programmazione generale, manipolare le colonne portanti della programmazione, come frequenza, intensità, oltre che volume. C'è anche un discorso da fare in merito alla scelta degli esercizi e soprattutto del numero di esercizi. A volte le scelte diventano radicali. Programmi apparentemente assurdi che però funzionano su una ristretta cerchia di persone che ormai hanno spremuto all'osso il loro potenziale genetico e che devono specializzarsi. Va da sé che specializzarsi vuol dire occuparsi in modo sempre più ristretto di uno specifico segmento del training. Bene, questo è tutto. periodo veramente pesante per il paese e anche a livello personale è un periodo in cui mi capitano diverse sfighe. Non lo so. Comunque spero che almeno questo video non mi procuri altri problemi. Marco Pt, 5x5. Grazie per l'attenzione. Alla prossima. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.